Grazie, tanto a Pietro che ci ha portato a discutere di queste cose, e anche a Fidalfa. Il tema dell'accordo, dell'attentativo di accordo, è effettivamente, un po' come dice anche Gianni Minato, una cosa difficile, una cosa su cui dobbiamo molto riflettere, perché sono le nuove regole della globalizzazione, del mercato globalizzato, sono le nuove regole, da quel punto io odio, in questo modo, c'è la città. Gli Stati Uniti ci propongono delle nuove regole, la ragione per cui ce le propongono è che sostengono che la qualità della produzione in Europa, tutte le regole che in Europa si data, che sono avuti più severi, operano come delle barriere protezionistiche. Cioè, gli Stati Uniti non riescono a esportare in Europa tutto quello che vorrebbero esportare, perché le nostre regole sono delle barriere, sono dei vincoli che li impediscono di entrare. E l'Europa sta trattando, come diceva, sta trattando, ma sta cedendo. Così non si dice, però io non capisco che la tradizione si può fare, se non si cede un po', insomma, la tradizione si va dando qualcosa. E quindi noi come consumatori siamo preoccupatissimi di come sta andando, ma io direi che c'è qualcosa di più che ci deve preoccupare. E cioè, se gli Stati Uniti pensano che le regole europee sono delle barriere protezionistiche, un accordo fatto tra l'Europa e gli Stati Uniti, e poi contemporaneamente gli Stati Uniti stanno facendo un altro accordo con alcuni paesi della zona, e quindi sostanzialmente stiamo decidendo quali sono le regole del commercio internazionale tra tutti i paesi ricchi. Perché guardate che l'effetto, diciamo, sulla quale vorrei farvi un attimo riflettere, è che se le regole sono barriere protezionistiche, queste sono le barriere protezionistiche che i paesi ricchi del mondo stanno mettendo in campo nel commercio internazionale, che significa che tutti gli altri paesi, che non sono la ricchissima Europa, che non sono la ricchissima Europa, che non sono la ricchissima Stati Uniti, e che non sono il Giappone e l'Australia, tutti gli altri, troveranno barriere protezionistiche a esportare nei paesi di Europa le loro produzioni, cioè questi trattati stanno escludendo tutta la parte meno ricca del mondo dal potere di partecipare al commercio internazionale. E' un po', diciamo, il risultato è un punto di vista che forse Gianni voleva anche indicare, cioè tutte le stregole che stiamo mettendo, tutte le stregole sulle quali siamo disposti ad abbassare un tantinello, tanto per far entrare un altro ricco, ma servono tutti quanti a cacciare fuori dal commercio internazionale tutti i poveri. Questo è un effetto molto, molto preoccupante di queste regole. Allora tra ricchi ce le discutiamo, tra ricchi ce le regoliamo, ma sicuramente in queste regole. Teniamo poi tutto il resto del mondo, poi dopo ci preoccupiamo se dall'Africa arrivano ondate di persone che vogliono partecipare alla ricchezza, che vogliono partecipare, ma non soltanto alla ricchezza, vogliono passare dalla morte, dalla sovravivenza difficilissima dei bambini che nascono nel terzo mondo, che vogliono uscire dalla zona di guerra in cui si scappano per avere l'acqua, per avere delle terre da coltivare. Gente che vuole uscire da questa realtà e si contenta di stare ai manci della nostra ricchezza, perché vengono qua per fare i lavori uomini e per sopravvivere, perché non vengono qui a condividere la nostra ricchezza, vengono qui a condividere la nostra salvezza. Quello penso che è l'azione semplice sopravvivenza. quindi diciamo questo è un punto di vista che non dobbiamo perdere e che in fondo ci richiede a questo punto, come associazione dei consumatori, di guardare un po' di più a costruire una coscienza del cittadino, del consumatore, ma forse a questo punto anche non è la persona. Ora sul tema oggi è l'ormoni, io sono super laico, non sono nel pro e nel contro. sui pesticidi, come erano citati nel testore, faccio osservare a Gianni che non diceva che non si può produrre, diceva che non si può sfamare il pianeta con quello che si produce senza pesticidi. E quindi io sto abbastanza con altre storie dal punto di vista, diciamo, sono un po' preoccupato sulla qualità dei ricercatori che riescono a mettere i loro dossier sul tavolo dell'Unione Europea, perché sono quasi tutti i ricercatori che hanno costruito le loro conoscenze lavorando per la grande industria e quindi diciamo anche quando si riteniscono a studi scientifici, si riferiscono a studi scientifici che non sono così eguali come ce li vorremmo aspettare che sicuramente le associazioni dei consumatori non sono soggetti capaci di mettere sul tavolo dell'Unione Europea dei dossier, diciamo che sono costati qualche centinaio di milioni di euro e che potrebbero rappresentare veramente le garanzie. E quindi, diciamo, sto con la testore ma vi faccio anche delle domande e vi pongo anche delle preoccupazioni. sono d'accordo con Paolo Lanti quando dice che la trasparenza è zero su questi dati. Io che faccio questo mestiere di tutelare i consumatori è probabilmente studiato quello che c'è da studiare, come c'è disponibile, diciamo, l'informazione apportata dai cittadini sul trattato. Probabilmente più in questi ultimi dieci giorni in cui Pietro mi ha sollecitato che anni precedenti, tre o forse sono tre anni che vanno avanti queste grandi... perché sono delle trattative che hanno avuto come notorietà un trafiletto su qualche giornale economico e letti fermi, ma i telegiornali non hanno mai parlato, le trasmissioni, diciamo, di diffusione più ampia, quelle che tutti quanti le sentono nel pomeriggio, sicuramente non eravamo mai parlato, ma pure sono una cosa, come abbiamo visto, che ci riguarda così pesantamente. Io dico che comunque queste regole non avranno nessuna possibilità di arginare i problemi per i seri grossi planetari di cui dobbiamo prendere coscienza, cioè che da mangiare per tutti non ce n'è, oppure, meglio, che se ce n'è, non lo stiamo distribuendo a tutti e se non lo distribuiamo a tutti, chi è fuori dalla distribuzione si farà sentire, si stanno già facendo tutti i giorni. Allora ci interessa vivere in un mondo in cui non ci manca niente, ma alle porte ci stanno quelli pronti a spazzarci, per prendersi quello che anche loro avrebbero il diritto di avere. Ecco, forse dobbiamo riflettere di più su questo, cioè non sono queste le regole, le regole che chiudono a tutto il resto del mondo la possibilità di partecipare al commercio internazionale. Abbiamo bisogno di un approccio diverso, di un approccio che guardi anche a dopo tutti i tipi. Quando avremo chiuso tutte le barriere alla produzione delle nocciole del Nord Africa, avuto il pesce della Malesia, avuto quello che volete voi, tutto quello che si produce fuori dall'Europa e dagli Stati Uniti, quando avremo chiuso la barriera a tutti gli altri, non so che mondo avremo, sarà un mondo in cui i nostri beni così ricchi, così cantini, così sicuri, ce li potremo godere. Io ho un punto di verità. Come se non sei consumatore dico, parliamo di questo, informiamo i cittadini di creare una coscienza, perché o questo lo assumiamo come problema dell'individuo, che quindi non sarà più egoisticamente attaccato alla sua super sicurezza e alle sue super garanzie e sarà disposto ad accedere a qualche cosa nel suo benessere della sua sicurezza. Oppure avremo, diciamo, il verso, il presto o tardi, la nostra servita. Io non so quanto è presto e quanto è tardi, forse, anzi sicuramente è già tardi, e non so quando è che il subievole non è anche l'intervento. Anzi, assicurate tutti, no? Anzi due o tre minuti. No, ma non mi devo soltanto per dire che dobbiamo farla entrare nella nostra licenza quotidiana e penso che ciascuno di voi può fare una piccola cosa, può, come abbiamo detto, fare la lotta allo spreco, fare l'accoglienza possibile e stare meno, diciamo, meno attaccati egoisticamente a questa ricchezza, a questa sicurezza, a questa qualità, come se fosse tutta quanta indispensabile. In realtà, gran parte di tutto questo forse lo potremmo mettere a disposizione di quella parte di mondo che sarebbe drammariamente in questo caso. Grazie.